Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video che in realtà io avevo già registrato. Purtroppo dopo un paio di ore di registrazione sono andato a ricontrollare i file e ho avuto un problema con l'audio e quindi mi sono ritrovato con tutto il video con l'audio inutilizzabile. Sono andato a effettuare un paio di acquisti economici e questo dovrebbe essere quasi il secondo episodio degli acquisti economici da Amazon, chiamatelo come preferite, che sono andato a effettuare in occasione anche del back to school che c'è in questi giorni quindi ci sono promozioni per acquistare libri o in realtà dovrebbe essere qualsiasi cosa che possa tornare utile a uno studente ma in realtà poi ci sono offerte un po' in generale. Io sono andato a acquistare un paio di cose con lo scopo di realizzare un video prova ovvero due hitsync per gli SSD NVMe. Come molti di voi sapranno gli SSD NVMe si scaldano parecchio e appunto ne accorciano la vita, diciamo che comunque più freschi stanno meglio è. Ma spesso, soprattutto quelli venduti senza hitsync, si scaldano molto. Infatti parecchi produttori di schede madri sono andati a installarli direttamente come copertura sulle proprie schede madri ma alcune o magari quelle più vecchie non ce l'hanno. Quindi per forza di cose se vogliamo tenere un po' più fresche le temperature del nostro SSD siamo costretti ad andare a utilizzare degli hitsync custom. Inoltre però sono andato ad acquistare una cosa un po' stupida ovvero questo tappetino RGB a 10€. L'ho pagato veramente poco e non gli avrei dato 50 centesimi. Pensavo fosse veramente una schifezza. In realtà, tralasciando che è arrivato senza cavo micro USB, ma l'ho scoperto troppo tardi, però vabbè, niente di problematico. Devo dire che non è per niente male. È un tappetino RGB con il controller sul bordo collegato via micro USB, quindi avrete un cavo in più. E ci permette di appunto poter cambiare il colore, utilizzare anche il fade. Dal video devo dire però che rende di più che dalla realtà, quindi non aspettatevi grandissime luci. Diciamo che nella zona da dove parte la luce, ovvero il controller, si nota abbastanza, nella parte centrale si nota di meno. Ma al buio si vede decisamente bene. Ok, quindi tralasciando questo tappetino veramente economico, però ci poteva stare. Le dimensioni sono 900, se non sbaglio, per 400, quindi 90 cm per 40. Sono andato a effettuare un paio di test. Ho acquistato due Eatsync Custom, uno molto economico, il più economico che sono riuscito a trovare su Amazon che arrivava in due giorni, ovvero questo, e l'ho pagato circa 4-5€. Spedito e arrivato a casa in un giorno, fantastico. All'interno della confezione di questo Eatsync ho trovato due metodi per poterlo fissare direttamente all'SSD. Uno con delle clip di metallo e l'altro invece con degli elastici. Questo doveva essere venduto, o almeno dalle foto, si vedeva solo con gli elastici, quindi molto ghetto style. Mentre quello leggermente più costoso doveva avere appunto le clip di metallo che in realtà non erano presenti e c'erano gli elastici. Quindi, vabbè. L'altro l'ho pagato circa 12 o 15€, non ve lo ricordo, dovrei controllare o vi lascerò qui un'immagine con il prezzo a cui l'ho pagato. Ho deciso di effettuare un totale di 6 test con questi SSD. Il primo è stato ovviamente con l'SSD da solo, montato direttamente sulla scheda madre, senza circolo d'aria, senza niente. Sono andato anche a utilizzare una scheda video di tipo Blower Style per non andare a influire sulle temperature di quest'ultimo. Quindi è l'SSD da solo, proprio a sé stante. E come temperature siamo arrivati a 53 gradi di massima sotto stress test. Quindi non sicuramente freschissimo, ma neanche diciamo in pericolo. Però ovviamente se riusciamo a tenerlo leggermente più fresco, male non fa. Poi sono andato a tenere l'SSD senza heat sink, ma andando a puntarci direttamente una ventola. Quindi migliorando nettamente l'air flow o comunque andando a simularne uno. Con la ventola le temperature sono drasticamente scese. Circa 38 gradi di massima con la ventola puntata addosso. Quindi un ottimo, ottimo air flow. Sono andato proprio agli estremi. Come secondo tentativo sono andato appunto a installare l'eatsink più economico, fissato con gli elastici. Quindi non penso che faccia differenza il fatto di fissare l'eatsink con gli elastici oppure con il pezzetto di metallo. State attenti ovviamente nel caso andate ad utilizzare quelli di metallo a non toccare i circuiti sotto. Perché potete bruciarvi tranquillamente l'SSD. Quindi se siete insicuri piuttosto utilizzate gli elastici. E le temperature sono scese. Parliamo di circa 48 gradi di massima con l'eatsink senza air flow. Quindi circa 5 gradi in meno solo con questo piccolo pezzetto di metallo. Ovviamente la spiegazione è fisica, semplicissima. Andiamo a aumentare la superficie di contatto e quella che può distribuire il calore. E quindi abbiamo delle temperature migliori. Andando poi a puntare la ventola direttamente con l'eatsink, qui abbiamo ottenuto un risultato ancora migliore. Siamo passati dai 38 gradi di massima nella versione senza eatsink a circa 33-34 gradi se non ricordo male con ventola più eatsink. Quindi decisamente ottimo. Sotto stress test ricordo. L'ho lasciato andare per 5-10 minuti e comunque la temperatura è rimasta invariata. Con una copia di file da 10 giga ha varie dimensioni. Quindi sono andato a stressarlo sotto tutti i punti di vista. Infine sono andato a togliere l'SSD e sono andato a montare l'eatsink che in realtà è quello che è rimasto montato ancora fino adesso. Ovvero quello più grande. È praticamente tre volte lo spessore di questo economico. E soprattutto lo spazio tra le lamelle e diciamo la superficie che va a distribuire il calore è nettamente maggiore. E con questo eatsink siamo andati nuovamente ad abbassare le temperature. 46 gradi di massima senza airflow normale. Mentre con la ventola puntata addosso siamo scesi a ben 32-33 gradi. Quindi decisamente non male. Diciamo che mi sento assolutamente di consigliarvi di raffreddare in qualche modo o aumentare la superficie di contatto del vostro SSD. Che sia un heatsink economico. E io sono andato a comprare questo su Amazon a 4-5 euro perché arrivava il giorno dopo. Ma in realtà se cercate su internet li trovate veramente a una cretinata, a pochi centesimi perché alla fine è un pezzetto di alluminio e non fa niente. Giuro, non cambia tra uno e l'altro. Cambia veramente poco. L'importante è aumentare la superficie di distribuzione del calore. Prendetelo dove preferite. Io eventualmente vi lascerò il link in descrizione sia di uno che dell'altro. Due cose prima di chiudere il video. Allora, l' heatsink per l'SSD, quello più grande e costoso, è arrivato con molti più pad termici. Tre per tipo di spessori diversi. Ovviamente per adattarsi ad ogni esigenza. Però non è arrivato con le clip di metallo, cosa che invece veniva fatta vedere nell'annuncio. Mentre quello più economico è arrivato con le clip di metallo che non venivano fatte vedere nell'annuncio. Altra cosa invece molto interessante che mi ha lasciato un attimo perplesso è stata la lettura di un altro sensore dell'SSD. Ci sono Drive Temperature 1 e Drive Temperature 2. Non so bene a cosa va a riferirsi la temperatura del secondo sensore, ma in questo caso abbiamo avuto un incremento delle prestazioni assurde. Ovvero la temperatura è passata da, senza assolutamente nessun heatsink, a circa 80 gradi, 85. Giuro non ho idea da cosa prendesse quella temperatura. Sono andato anche a utilizzare una pistola termica per controllarne la temperatura appunto. E siamo passati con entrambi gli heatsink a meno 20 gradi, cioè a 20 gradi meno rispetto a senza heatsink. Quindi un miglioramento da quel punto di vista, probabilmente per i controller delle memorie, non ne ho idea. Anzi, se lo sapete fatemelo sapere qui nei commenti. E questo sicuramente va a allungare la vita del vostro SSD. Inoltre, prima di andare a chiudere il video, ci tengo anche a farvi notare una cosa. In realtà l'ho notato dopo aver, mentre stavo editando il video. All'interno di questo video ci sono 157.000 marchi diversi di tutto. Facciamo un gioco. Provate a scrivere nei commenti tutti i brand che vedete all'interno di questo video, perché ci sono veramente tutti. Infatti saluto tutti. Ciao. Basta, spero che in questo momento l'audio abbia registrato correttamente. In descrizione vi lascio tutti i vari link dei prodotti che sono andato a utilizzare o anche qualche offerta del Back to School. Vi lascio anche ovviamente il link per le magliette o quella con il crash di Windows. Trovate il link del sito BlinkMyPC e tutto il resto. E direi che da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che abbiamo lanciato BlinkMyPC.it, il sito perfetto per trovare il vostro nuovo computer. Sia che cerchiate una configurazione già pronta, sia che vogliate realizzarne una su misura per voi. Trovate il link in descrizione. Ciao! 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 Grazie a tutti